Chi si sottopone a doping ha un tipo di mandibola specifico, che prende il nome appunto di mandibola GH. Quindi questo è il tipo di mandibola che è un soggetto che spesso fa doping. Perché ovviamente l'ormone della crescita, che in inglese è Growth Hormone, che va sotto l'acronimo di GH, è doping a tutti gli effetti se viene assunto, diciamo, e determina una posizione di nuova matrice ossea. E va a modificare, come potete vedere nella foto di questo individuo, le strutture facciali. Non soltanto la mandibola, ma avremo un osso nasale più piatto, avremo una fronte più sporgente, degli zigomi pronunciati, e una mandibola definita appunto GH, come vi ho detto prima, cioè una mandibola più grande. In più questi individui perderanno il grasso delle guance, cioè il grasso della bolla del bichà. Se vuoi approfondire la bolla del bichà, ho fatto un video specifico sul mio canale, che puoi vedere. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividendo il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!